Il primo progetto che vogliamo presentare è Young Caritas ed è l'opportunità per giovani dai 18 ai 30 anni di fare un'esperienza di 12 mesi in Caritas, quindi un'esperienza che avrà anche una retribuzione di 500 euro al mese per stare nei nostri luoghi con le persone che sono accompagnate da Caritas e per vivere questa lunga, perché 12 mesi sono sicuramente impegnativi, questo lungo percorso insieme a noi. L'altra iniziativa è quella del Caritas Camp che è legata strettamente al progetto che portiamo nelle scuole, negli istituti superiori. Da alcuni anni, purtroppo durante la pandemia l'abbiamo dovuto sospendere, ma da alcuni anni portiamo nelle scuole un progetto che fondamentalmente vuole parlare con gli studenti, vuole evidenziare quelle che sono soprattutto le povertà non solo materiali ma anche relazionali. Alla fine di questo progetto in classe proponiamo una visita alla Caritas diocesana, quindi gli studenti si muovono dalla scuola e visitano, osservano quello che noi facciamo giornalmente. A questi ragazzi facciamo questa proposta, perché non state con noi una settimana in estate, e quest'anno sarà dal 13 al 17 di giugno, è una proposta residenziale, quindi vivere insieme per una settimana, rivolta a circa 15 giovani, delle scuole superiori, nella fascia terza e quarta superiore, per appunto fare la mattina proprio un servizio nei vari ambienti Caritas, la mensa, il centro d'ascolto, mentre nel pomeriggio pensavamo a una serie di laboratori, di incontri per una crescita che possa essere personale e che possa anche dare a questi ragazzi una conoscenza della società che li attornia. L'ultima proposta è una proposta di volontariato internazionale, si chiama REMAP, ed è una proposta che facciamo a livello regionale. Sarà possibile fare un viaggio lungo quella che viene definita rotta balcanica, in particolare in Bosnia e Herzegovina, sarà un viaggio di servizio nei campi profughi che ospitano, appunto profughi provenienti da vari paesi che percorrono questa rotta, e poi dopo il viaggio non finisce qui perché chiederemo ai partecipanti di continuare il loro impegno in Caritas e di portare una testimonianza di questa esperienza che potranno fare.